È successo a Bari dove l'ennesimo errore nelle attività burocratiche ha portato alla scarcerazione di una delle maggiori figure del clan mafioso degli Strisciuglio. Il ragazzo, appena 31 anni, ha lasciato il carcere perché la Corte d'Assise di Appello di Bari, sezione minorile, non ha fissato nei suoi confronti l'udienza del processo di secondo grado. Il giovane era in carcere da luglio 2015 per aver partecipato all'omicidio di Domenico D'Ambrosio, ucciso nel 2003 in un bar del quartiere Stanic. Era stato condannato a 10 anni dal Tribunale per i minori. Nei confronti del ragazzo difeso dall'avvocato Nicola Quaranta, era stata riconosciuta in primo grado l'attenuante della minore età ed esclusa l'aggravante del metodo mafioso. Poiché il ragazzo era ancora minorenne quando partecipò al delitto dove aveva il compito di guidare la moto da cui poi furono esplosi i colpi di pistola, i termini di custodia si erano ridotti da un anno a sei mesi. Dal luglio a settembre la Corte di Appello avrebbe dovuto fissare il processo ma non l'ha fatto determinando la scarcerazione.